Munite di torce, giubbetti gialli, catari frangenti, a Silea, sono tornate le ronde, ma ora si chiamano passeggiate della sicurezza. Promotrice dell'iniziativa La Lega Nord, con gruppi che usciranno una volta alla settimana. La prossima uscita la prevediamo già dalla settimana prossima. La frequenza dopo le ferie faremo un piano e faremo da due o tre uscite al mese. La prima uscita manca di rinviatezze, teatro di recrudescenza di furti in ville e in appartamento. L'ultima appena una settimana fa con Germano Biscaro, pensionato di 76 anni, che si è trovato faccia a faccia con il ladro, con il carroccio che contesta la mancata presenza di telecamere in città. Siamo forse l'unico comune della provincia di Treviso che non ha videosorveglianza praticamente da nessuna parte. Ha intenzione in questi giorni di prendere qualche provvedimento? Noi l'abbiamo già preso, il potenziamento del controllo attraverso telecamere. Abbiamo già stabilito dei fondi per installare telecamere e aumenteremo i fondi verso questo settore. Quante nuove telecamere? Allora andiamo per aree, quindi avremo tre aree, abbiamo già deciso, una dovrebbe essere già pronta a settembre e le altre prima di Natale. Il contrappello del carroccio a sindaco e cittadinanza. Cerchiamo cittadini, da destra a sinistra, a qualsiasi livello politico loro possono avere, li accettiamo, porte aperte per tutti. Anche il sindaco se volesse aggiungersi a noi siamo ben lieti di averlo tra le nostre braccia.